Dopo un'estate di successo in vari comuni del Piemonte stanno per volgere al termine gli appuntamenti della rassegna teatrale Voci dei luoghi, Guerra e Resistenza 1940-1945, Lettura e Musica 2013, promossa dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della Provincia di Torino e L'Uncem. Venerdì 30 agosto a Vallo Torinese e sabato 31 a Tagliolo Monferrato, provincia di Alessandria, la compagnia 3001 interpreta lo spettacolo La Ragazza Partigiana. Sempre il 30 agosto a Dogliani, provincia di Cuneo, Assemblea Teatro propone l'inafferrabile in bici con Bartali e in moto con Lulu.